salve gente sono cecchi di catena pisa e siamo nella terza zona ci vuole più tempo a trovare un livello che a completarlo livello 15 addirittura proprio una c'è il livello più facile che si trova piano terra si trova qua da sotto vabbè un'ottima disposizione si ottimissimo livello 10 ragazzi il livello 10 si trova qua sotto praticamente forse era più difficile da raggiungere ok andiamo in questo livello 10 pesci scosse da trovare 6 quindi 6 pesci scosse in questo mondo questa zona si parte diamo sempre delle belle occhiate ho tanto vita a uno colonio di nuovi esseri viventi i sternuti non finiscono qui nuove emozioni con i nuovi sternuti non c'è niente di nascosto qua no no vero no facciamo un giro turistico prima un po' intorno ok 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 Vabbè qua sembra non ci sia nulla Una macchia wow Ah per farmi saltare Della pergamena ancora nessuna traccia Qua sopra non posso salire Ah grazie e dei complimenti Eccola Ci abbiamo fatto Ma guarda che maledetti Un esperto di platform come me Non si fa fregare da queste cose Divoratori di Super Mario Andiamo qua Ma saltiamo già da qua Ah non era stata una buona idea forse Oh mio dio la morte per annegamento Abbiamo sperimentato Ok la vedo dura Spero che quella morte Vabbè no Sono messo in una buona posizione In realtà Questo è Sì questo punto è fatto Per disintegrare tutto Praticamente Ok Andavo a sparare l'ultimo golpe Ma non ce l'ho fatta in tempo Se questo è il vero è più facile del primo Ah no basta La mia furia omicida si può placare Si può fermare adesso È stata placata In realtà no In realtà no Però dovevo placarla lo stesso Ok Ok Oh mio dio l'evoluzione L'innalazzoamento del livello del mare Quanto se la specie di superficie all'estinzione Fu in quell'ambiente che gli antenati degli inkling posarono i loro dieci tentacoli Sulle terre disabitate Ebbe così iniziò le ramollusca Oh mio dio queste impietante Quindi noi ci estingueremo E praticamente verremo Ottenere un'alba speciale Per ottenere un'alba speciale E verremo soppiantati da questi cosi strani Per ottenere un'alba speciale